Ciao, oggi vi parlo di un piccolo gestionale con una bella presenza scenica sul tavolo, che vi chiederà appunto di servire i piatti migliori all'interno del vostro Yatai. Gioco di Alfonso Monfanti, Tommaso Roberto Ceglia e Riccardo Corti. Due a quattro giocatori e una durata partita di circa 20 minuti a giocatore. Edito Downtown Games, che sta sponsorizzando il video che guardate. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Durante il proprio turno un giocatore esegue questi passi. Innanzitutto sceglie una delle quattro tessere azioni fuori dal piano di gioco e decide se metterla in una delle tre colonne oppure in una delle due righe, spingendo tutte le altre tessere fuori, ad esempio in questo modo. Metterà questo pedina gatto, in questo caso sulla colonna, per ricordarci che le due azioni da svolgere nell'ordine che vorrà sono queste due. Nel caso avesse deciso invece di spingere una riga, le tessere uscirebbero in questo modo e il gatto si piazzerebbe qua. Innanzitutto potrebbero arrivare uno o due nuovi clienti nel nostro Yatai. Semplicemente si prende il sacchetto e si estraggono i nuovi Meeple. Possono essere di colori diversi oppure grigi, che sono i turisti. I Meeple sederanno da sinistra a destra, in queste posizioni già predefinite. Attenzione che se all'inizio del turno questa posizione è occupata, si perderanno due punti, a meno di dare un omaggino al nostro cliente. Attenzione, è possibile non far sedere questi nuovi clienti nel nostro Yatai, ma farli sedere anche negli Yatai degli avversari. Con questa azione possiamo mettere nel nostro frigorifero una o due nuove bottiglie. Le bottiglie semplicemente si scelgono per colore e si piazzeranno negli spazi liberi del nostro frigorifero. In maniera analoga potremo preparare uno o due nuovi piatti nel nostro Yatai. Attenzione, i piatti preparabili sono solo quelli presenti sul nostro menu. Nel mio caso quindi potremo preparare solamente degli spiedini oppure degli Oza. I piatti vengono sempre messi da sinistra a destra negli spazi corrispondenti. Potremo poi servire i clienti con un piatto e una bottiglia o un piatto e due bottiglie. Semplicemente si prenderà il cliente più a sinistra, gli si assegnerà il piatto corrispondente e la bottiglia o le bottiglie come indicato. Il cliente servito ci fornirà subito un punto vittoria e poi ogni oggetto del colore corretto uno addizionale. Nello specifico quindi prenderemo due punti vittoria da mettere direttamente nella nostra riserva. Il piatto verrà quindi girato sulla lavastoviglie nella pila del colore corrispondente e la bottiglia girata nella parte del riciclo. Il cliente dovrà essere ora piazzato invece su questa plancia in un punto ortogonale a uno dei clienti già presenti su di essa. Una volta piazzato ci darà il bonus indicato sotto di esso. La maggior parte degli spazi ci permetterà di avanzare sulle righe delle recensioni di quattro tipologie differenti che saranno punti preziosi a fine partita. Oppure potranno farci avanzare nella colonna dell'influencer. Ogni volta che l'influencer va avanti ci farà fare passi di recensioni pari al numero delle stelline. Ma potremo anche scegliere questi spazi che ci daranno delle preziose azioni bonus che potremo utilizzare nel nostro turno quando vorremo oppure da tenere a fine partita per preziosi punti vittoria. E ancora in questo spazio potremo aggiungere un nuovo piatto al nostro menu quindi un nuovo colore di piatto per ulteriori due punti vittoria. Qua potremo ad esempio sbloccare lo spazio frigo liberando un terzo spazio disponibile per le bottiglie e analogamente in questo spazio libereremo un nuovo slot per i nostri cibi. Completata l'operazione di servizio tutto scorre verso sinistra di uno spazio. E infine abbiamo l'azione di riciclo. Si prende una bottiglia dal nostro spazio del riciclo la si rimette nella riserva e si colleziona un punto vittoria. Si gioca così per un totale di 12 turni e a quel punto si passa al conteggio dei punti vittoria finali. Innanzitutto si guarda per ogni tipologia di piatto chi ne ha serviti la maggioranza e quel giocatore farà punti pari a quanti ne ha serviti. Ad esempio se io avessi servito la maggioranza di piatti gialli farei tre punti vittoria. Una volta conteggiati tutti i colori dei piatti si passa a fare la stessa cosa con i colori dei clienti serviti. Chi ha la maggioranza per ciascun colore farà punti vittoria pari al numero di clienti serviti. Ciascun giocatore sommerà punti vittoria bonus pari alle azioni speciali non utilizzate e infine punti vittoria positivi o negativi date dalle recensioni. Al totale ottenuto fino a questo momento si sommano i punti vittoria collezionati nel corso della partita e neanche da dire che il totale più alto è il vincitore. Come avete visto imparare a giocare è abbastanza intuitivo. le azioni sono molto compatte e le icone molto autoesplicative diciamo che l'unica azione un po' più complessa è quella del servizio ma che di fatto dà anche il cuore del gioco stesso appunto il servizio ai clienti. Ma attenzione perché il gioco nasconde alcune insidie. Intanto sembrerebbe quasi automatico selezionare una riga rispetto ad una colonna perché sulla riga ci sono tre azioni sulla colonna 2 ma dipende molto da dove sono piazzate le azioni. Vi faccio un esempio se le due azioni per esempio di riciclo sono posizionate qua in fondo voi non avrete nessun modo di selezionare una riga senza che quest'azione esca e quindi non possiate farla. L'unico modo quindi per fare un'azione di riciclo nel caso fosse proprio quella che volete performare è scegliere una colonna in modo tale che una rimanga all'interno. Altra cosa da considerare è che le azioni devono essere fatte nel loro interezza quindi se non avete spazio per due cibi o per due bottiglie o per servire nella maniera corretta i clienti semplicemente quell'azione non potrete farla. Diventa quindi fondamentale cercare di gestire al meglio i propri spazi e le proprie azioni magari fare qualcosa di meno performante sotto un certo punto di vista ma che vi permette di massimizzare i punti. Avete visto ad esempio che combinare perfettamente il colore del vostro cliente con la bottiglia e il cibo vi permette di avere tre punti e addirittura se gli servite due bottiglie del colore corretto un cliente potrebbe valere quattro punti. Può essere interessante pertanto aspettare un attimo di più. Altra cosa da decidere è se accettare turisti o meno. Innanzitutto non hanno un colore quindi sembrerebbero svantaggiosi perché a qualsiasi cosa gli dati non vi darà punti addizionali ma attenzione perché un turista potrà darvi due recensioni anziché una rispetto ai clienti tradizionali. Altro punto da non sottovalutare è l'interazione al tavolo. Potrà essercene quanta decide il vostro gruppo. Di fatto se ognuno prende i propri clienti e li piazza nel proprio dati non ci sarà grosso problema ma se iniziate a piazzare clienti anche negli dati avversari allora quest'ultimo spazio sarà occupato e se all'inizio del vostro turno non avrete da dare una bottiglia in omaggio oppure il tassello speciale del pesciolino giusto per far passare il tempo perderete due punti vittoria sono decisamente tanti nell'economia della partita. Inoltre ricordate che voi potete preparare piatti solamente del tipo che è presente sul vostro menu quindi piazzare ad esempio uno mino giallo e uno yatai che può preparare solo piatti blu e verdi tanto per dire può dare fastidio perché non avrete la combo dei colori. Il grosso poi dell'interazione è sicuramente nel conteggio dei punti finali avete visto che si tratta di un sistema di maggioranze reso ancora più cattivo dal fatto che se c'è un pareggio in prima posizione semplicemente i punti non vengono assegnati quindi attenzione se prendete una maggioranza siate molto decisi nel portarla avanti. Direi quindi che questo yatai è un buon gioco di tipo family sicuramente ha dei materiali molto accattivanti potete sedere al tavolo praticamente qualsiasi tipologia di giocatore che abbia un minimo di dimestichezza con i materiali con le strutture del turno di questa tipologia e tranquillamente anche i giocatori un po' più esperti riusciranno a godersi l'ottimizzazione di quello che succede dalla pesca casuale dei clienti all'interno del sacchetto. Con questo quindi direi che vi invito sicuramente a una partita e vi saluto con un ciao e alla prossima!